buon sabato e telespettatori di rete 7 vediamo insieme le notizie intanto da oggi e sino a domenica 23 dicembre sono a pagamento i parcheggi nelle strisce blu della zona centrale anche nei giorni festivi alle 11 processione parrocchia maria madre della chiesa da via beltimora alle 11 30 la processione della parrocchia immacolata concezione da via san donato in via roma extra vaganza in via carlo alberto una storia tra le mani in piazza bodoni e anche domani in piazza vittorio veneto i artimani oggi e domani in piazza palazzo di città mercatino di prodotti agricoli ai giardini san buidi piazza carlo felice mercatino biodiversità in zona borgodora basking balloon alle 20 30 al palavela torna il basket fiat torino ausilium dolomiti energia trentino sino al 7 gennaio di fronte a italy mercatino un dono per tutti nel pomeriggio al parco carrara gran premio dell'immacolata oggi e domani all'ingotto fiere natale bimbi mercati rionali aperti marcia notav a partire dalle 14 con ritrovo dei partecipanti in piazza statuto percorrenza poi percorso san martino piazza 18 dicembre via cernaia via petromiche arrivo in piazza castello per oggi sono previste deviazioni percorso dalle 17 alle 19 in moncalieri per le linee 45 67 e 70 direi che è tutto buona festa buon viaggio e a lunedì